Quest'oggi abbiamo convocato gli organi di stampa che ringrazio immediatamente per la loro disponibilità perché vogliamo dare una serie di buone notizie ai nostri utenti, ai nostri clienti che riguardano il Centro Pastore. Il Centro Pastore ha avuto delle difficoltà, sono note a tutte, negli anni passati ma adesso si sta rilanciando soprattutto nello stile di comunicazione e nella qualità dei servizi e nell'ampiezza dei servizi. Probabilmente avrete già notato un nuovo sito, una nuova veste grafica, tanti investimenti nella comunicazione per promuovere dei corsi che non sono standard, sono corsi che hanno sempre un carattere innovativo o comunque di stretta utilità e interconnessione con il territorio. Avete notato che oltre alla formazione il Centro Pastore eroga dei servizi di natura ambientale. Noi abbiamo l'anno scorso effettuato, curato proprio la campagna di comunicazione per Riva Ligure, per il passaggio del porta a porta e abbiamo insieme ovviamente in condivisione diciamo di responsabilità con il Comune e con l'azienda erogatrice abbiamo ottenuto un enorme successo perché dal 40% si è passati all'80% nel giro di un mese e adesso ci prestiamo a partire con Santo Stefano al mare. Questo perché l'educazione è un servizio strettamente correlato alla formazione. Sono partiti già servizi legati al settore food, anche qui green barman, tutte cose molto innovative. Abbiamo aperto una scuola per la pubblica amministrazione che in questo momento si sta occupando principalmente del nuovo GDPR della privacy e della formazione dei DPO ma che presto offrirà ai Comuni, a tutti gli enti pubblici e al loro personale aggiornamenti tecnici legati ovviamente alla struttura pubblica. Altre novità sono in continua evoluzione, ci aspetta un autunno pieno di corsi, di qualifica, sia gratuiti che a pagamento. Altre novità sono l'avvio della sezione e-learning che potrete trovare sul nostro sito. Continuano sempre i progetti legati strettamente al sociale come ciclabilità, che è un progetto molto importante che si sviluppa nella Val Nervi a Ventimiglia, dove formeremo e inseriremo nel mondo del lavoro persone appartenenti a fasce deboli e legate come attività alla nuova pista ciclabile che si sta sviluppando anche in quella zona. Il settore che sta prendendo piede e che è poi protagonista della giornata di oggi è l'Academy. L'Academy ha come sottotitolo la bellezza al centro, dove bellezza si intende come bellezza universale, bellezza sia estetica della persona che dell'arte e della cultura della bellezza a 360 gradi. Quindi metteremo in stretta correlazione uno dei nostri core, che è la scuola per estetiste, per esempio, o per parrucchieri, con il mondo dello spettacolo, con il cinema. Grazie alla collaborazione di Macaia Film con Simone Gandolfo, che poi interverrà, avremo proprio questa interconnessione fra i corsi che si svilupperanno in queste aule e le attività anche lavorative che riguarderanno il mondo dello spettacolo. Quindi si parlerà di corsi di recitazione, piuttosto che del corso di aiuto regista, che è un corso gratuito, che sta per partire, per chiudersi il bando e per il quale abbiamo bisogno di iscrizioni, perché è un'interessantissima opportunità di lavoro, un corso completamente gratuito e che apre veramente a ventaglio molto largo l'inserimento nel mondo del cinema, dello spettacolo, del teatro. Questo ed altre attività saranno sempre legate al mondo del lavoro, sempre di più. Il centro pastore si sta accreditando in regione come centro che erogherà servizi per il lavoro e quindi già dal prossimo autunno, quando partiranno questi corsi da 800, 900, 1200 ore, saranno compresi nel corso anche attività di job placement, di orientamento e quindi di correlazione con le aziende del settore dell'estetica o dello spettacolo. Una piccola altra novità a cui tengo molto ed è fresca fresca perché proprio ieri sera abbiamo fatto l'accordo, collaboreremo con la BKI Basket d'Imperia e quindi ci rivolgiamo anche al settore giovanile della città d'Imperia intanto perché credo che il basket dia un ottimo messaggio di qualità, di messaggio di educazione e di formazione e poi perché qui dietro proprio c'è il campetto delle ferriere che è un campetto molto bello e collaboreremo con la BKI per organizzare un torneo 3 contro 3, proprio street basket all'americana rivolto ai bambini, ai ragazzi e agli adulti ma anche a una formula molto bella che sono le squadre miste figli-genitori, stavo dicendo papà figli ma potranno partecipare anche le mamme quindi una cosa molto bella che cerchiamo di fare, che faremo di sera durante le vele d'epoca in modo da coinvolgere quanta più cittadinanza possibile. Prosegue con grande profitto la collaborazione tra il Centro Postone e Macaia Film adesso appunto siamo impegnati in questo corso di Tecnici Luci che poi in realtà come avevo già detto è una qualifica ben più ampia che formerà macchinisti, elettricisti, teatrali, cinematografici e anche persone che fanno movimentazione palchi quindi creerà veramente una figura completa e in grado di fornire un'ottima proposta per tutte le manifestazioni che ci sono in Liguria e poi il prossimo traguardo è il corso da aiuti registi come per il Tecnici Luci aiuti registi per me è una qualifica ma è riduttivo di ciò che viene insegnato ai ragazzi perché sarà un corso che formerà sia il personale del reparto regia quindi aiuti registi, assistenti alla regia avranno tutta una serie di nozioni che servono per lavorare nel reparto regia ma anche assistenti di produzione quindi tutte quelle nozioni che sono importanti per lavorare nella produzione sia di film, televisione o spettacoli teatrali o eventi perché queste due figure? perché sono le prime che le produzioni che vengono da fuori ti richiedono sono le prime che cercano sul territorio e sono quelle l'aiuto regista piuttosto che il location manager piuttosto che l'assistente di produzione piuttosto che l'ispettore di produzione sono coloro che partono a lavorare quando il set non è ancora arrivato quando le riprese non sono ancora arrivate e quindi sono quelle che possono creare altro lavoro sul territorio perché sono quelle a cui viene chiesto se conoscono qualcuno che fa il catering se conoscono di cercare le comparse di cercare altri lavoratori e quindi come dire formando queste figure se una produzione che viene da fuori prende in loco questa figura si crea un volano economico molto più grande del lavoro della persona stessa due dati tecnici il corso di aiuto regista partirà a settembre più o meno adesso il giorno preciso non lo sappiamo ancora il bando chiuderà il 20 di luglio quindi è ancora aperto e poi ci sarà un'iniziativa che noi ci teniamo molto alla fine sia del corso tecnici luci che del corso aiuto regista verrà realizzato un cortometraggio che sarà un cortometraggio assolutamente didattico naturalmente ma abbiamo deciso quindi con i ragazzi che impiegherà i ragazzi dei corsi e eventualmente vediamo se coinvolgeremo qualche attore locale insomma per creare una cosa un po' più carina ma siccome volevamo che questo corso avesse da subito una grande connessione con la città che proprio l'accademy stessa avesse una grande connessione con la città abbiamo deciso di lanciare un contest si possono trovare tutte le informazioni necessarie a questo contest sul sito del centro pastore e sostanzialmente dà la possibilità a chiunque lo voglia di mandare un suo scritto di una pagina con una sua storia e magari poi le storie che verranno scelte verranno selezionate anche sarà una parte del modulo formativo ci sarà una giuria di tecnici due tecnici uno sono io, l'altro Eugenio Ripepi e poi sarà anche Fabio Natta il presidente della provincia che ci dà una mano nella selezione e poi la storia che verrà selezionata verrà lavorata all'interno del corso di aiuto regista e poi verrà realizzata quindi chissà che un nostro concittadino non possa vedere realizzato un suo sogno sullo schermo uno dei settori di punta dell'Academy su cui il centro pastore crede molto è il settore estetico presentiamo un corso biennale per estetista dipendente che è un corso che risponde alle esigenze delle persone che vogliono imparare un mestiere cioè quello dell'estetista questo corso ha delle materie prevede sia delle materie teoriche che pratiche e uno stagio formativo ovviamente tutto seguendo la normativa vigente relativamente a questa figura professionale la durata del corso è di 1800 ore e come unico requisito di accesso è il raggiungimento della maggior età quindi 18 anni al termine del percorso formativo il superamento dell'esame finale viene rilasciata una qualifica professionale che è una qualifica professionale come estetista dipendente quindi permette alle persone che frequentano questo corso di essere, di entrare nel mondo del lavoro come dipendenti presso centri estetici e centri di benessere inoltre proponiamo un corso di abilitazione professionale per estetista che è il terzo anno è un corso che offre la possibilità a tutti coloro che sono in possesso di una qualifica professionale come estetista dipendente di fare un ulteriore percorso formativo per aprire una propria attività è un corso di 900 ore dove vengono approfondite capacità teorico e pratico nel settore estetico e dove vengono trasmesse competenze imprenditoriali per migliorare una propria gestione sia organizzativa che gestionale proprio della propria attività Centro Pastore ha organizzato o ha creato una rete diretta con le aziende del settore estetico con la quale collabora sia per l'organizzazione di stagio formativi sia per fornire nominativi di persone che si sono qualificati nel tempo questo grazie a una grande esperienza che noi abbiamo acquisito negli anni perché dovuta al fatto che abbiamo da sempre organizzato e gestito corsi di formazione relativamente al settore estetico da quest'anno abbiamo anche pensiamo di offrire una novità che è quella di offrire agli allievi che hanno frequentato questo corso un servizio di orientamento che gli permette sia di prepararsi per un colloquio di lavoro e sia di mettere un servizio di job placement che permette ai ragazzi di essere messi in contatto direttamente con le aziende che sono nostre partner grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.